Ben ritrovati con il Comizio.it per parlare ancora delle elezioni comunali del 3 e 4 di ottobre, parliamo di Milano, lo facciamo con Marco Anguissola. Buonasera, buonasera a tutti. Marco Anguissola che è candidato al Consiglio Comunale di Milano per la lista che porta il nome del candidato sindaco del centrodestra, la lista civica Luca Bernardo, sindaco. Anguissola, io da osservatore ho notato una cosa in questa campagna elettorale così strana, sia come periodo sia come durata molto ridotta della stessa campagna. Si è parlato poco di cose concrete, o almeno questo è quello che è uscito presso il pubblico mediatico. Molte polemiche, molti attacchi reciproci, ma i cittadini milanesi che sono concreti vogliono sentire parlare di cose concrete. Le vostre proposte. È vero, è vero. È stata una campagna che è iniziata alla fine dell'estate, che ha permesso poco di incontrare le persone, seppure noi candidati, io abbiamo girato tanti incontri, mercati, abbiamo visto persone, in quelle occasioni c'è stata la possibilità di dire quali sono le idee, i progetti, i programmi per cambiare la nostra città, perché tanti milanesi chiedono di cambiare la nostra città, cittadini delle periferie che sono state abbandonate, cittadini che vedono una grande sicurezza, edifici comunali abbandonati, le strade disastrate, eccetera, eccetera, eccetera. Però peccato che la sinistra ha preferito spostare la campagna elettorale su attacchi personali, esclusivamente attacchi personali al candidato sindaco e non ha parlato di programmi, perché non ha parlato di programmi? Forse ce lo siamo detti quando ci siamo già incontrati, perché il sindaco Sala non lascia niente alla città, mentre noi viviamo le opere delle grandi amministrazioni di centrodestra, quindi Sala e il centrosinistra e alcuni media di centrosinistra hanno deciso di attaccare il sindaco Bernardo, non sono stati attacchi reciproci, sono stati attacchi diretti al candidato sindaco Luca Bernardo e questo è stato palesemente un interesse della sinistra per addormentare la campagna elettorale, non portare sui programmi, per fortuna tanti cittadini in giro ce le hanno chieste e siamo riusciti a trasmetterli e speriamo che questo il 3-4 ottobre si trasformi nel voto del cambiamento. Incontrando i cittadini nei suoi giri per la città, quali sono le principali richieste, le priorità, i problemi che le espongono? Allora, dipende dove ci incontriamo, sicuramente il tema della sicurezza è un tema molto sentito, cioè della percezione dell'insicurezza che si ha nella città, ricordiamo che Milano è la prima città in Italia per numero di denunce e di reati, ci sono alcune zone della città che sono inavvicinabili a determinati orari, i mezzi pubblici sono spesso palcoscenici di scippi o aggressioni e quindi ci sono tante aree, tante sezioni in cui bisogna intervenire, quindi la sicurezza è una grande richiesta, c'è anche una grande richiesta sulla mobilità perché i cittadini hanno visto queste piste ciclabili messe lì un po' a caso e chiedono serietà, chiedono un'idea, un progetto sulla mobilità alternativa, nessuno è contrario alla mobilità alternativa alla macchina, ma bisogna farlo pensando non solo dal punto di vista ideologico e propagandistico e poi c'è una cura della città che si vede molto a macchia di lopardo, alcune aree sono ben curate perché è innegabile, tante aree sono dimenticate e siccome per noi non esistono cittadini di serie A e di serie B, l'impegno è che siano tutte le aree ben curate, tutte le aree della città trattate come devono essere trattate tutti da cittadini di serie A, come dobbiamo essere tutti. Il tema di mobilità e viabilità cittadina, uno dei temi più caldi è quello dell'area C e dell'area B, molte persone che ci capita di sentire lamentano una pressione troppo forte da questo punto di vista, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio pratico del potersi muovere, ecco voi rispetto a queste tematiche che cosa proponete? La proposta di Luca Bernardo è l'abolizione di area B e di ridurre l'orario di area C, ma perché sono provvedimenti, sono tasse non più giustificabili perché l'area C è una mera tassa perché chi deve lavorare andando in centro, poverino ci deve comunque andare, quindi è una tassa, si deve pagare per lavorare, i residenti hanno solo 40 accessi e l'idea di dover pagare per tornare a casa è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, area B che nasce su alcune norme sull'inquinamento, ma soprattutto in questo periodo macchine di 7-8 anni che sono ben manutenute, tagliandate eccetera eccetera, dovrebbero essere sostituite e mi domando con i due anni di crisi che abbiamo vissuto imporre alle famiglie una sostituzione di una macchina perché non tutti possono prendere i mezzi, che senso ha? Quindi area B eliminarla e area C rimodularla e rivederla. In tema di innovazione, il sindaco Sala spesso ha propagandato un'idea di Milano del futuro molto al passo con i tempi anche da un punto di vista tecnologico, poi sempre se andiamo nel pratico quando si ha a che fare con l'amministrazione comunale i problemi sono evidenti e sono vecchi di qualche decennio. Dal vostro punto di vista e secondo il vostro programma come bisognerebbe intervenire per migliorare e per velocizzare i ritmi del rapporto tra i cittadini e la burocrazia? Mi permette che quando si parla di Milano del futuro credo che a tutti noi vengano in mente grandi progetti City Life, Gaulenti e ricordo come ho detto prima che non sono progetti né della giunta Sala né della giunta Pisa-Pia ma sono progetti del centro-destra. Sul rapporto col cittadino è evidente che vada potenziato il fascicolo elettronico del cittadino aiutando anche i cittadini più anziani a poterne fruire, velocizzando tutti quelli che sono i rapporti con la pubblica amministrazione. Io ho degli amici che hanno dovuto posticipare il matrimonio perché non gli veniva dato l'appuntamento per le pubblicazioni in tempo, ho amici che hanno problemi con l'Atari, problemi con l'anagrafe, vari problemi che non si risolve online e ci sono lunghi tempi di attesa. Capisco il Covid ma bisogna fare qualcosa di integrato, qualcosa che sia accessibile a tutti e potenziare ancora di più quello che è il fascicolo elettronico il cittadino, che è uno strumento valido ma che va integrato. Marco Anguissola, le lascio 30 secondi per un ultimo appello al voto. Grazie. 3-4 ottobre, domenica e lunedì, mi raccomando anche lunedì, quindi se domenica avete già prenotato il weekend prima di andare a lavoro, lunedì si può andare a votare. Abbiamo un'opportunità importante, l'opportunità di dire al mondo, all'Italia che Milano può ripartire, può essere la capitale d'Italia economica, capitale d'Europa, lo possiamo fare scegliendo Luca Bernardo, Sindaco di Milano, dando la preferenza alla lista civica Luca Bernardo e se vorrete scrivendo il mio cognome. Ringrazio Marco Anguissola. Grazie a voi. A presto. Buonasera a tutti. A presto anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è con i prossimi approfondimenti del Comizio.it.